io avevo un cane non lo sapevo non importa adesso non c'è più sono due giorni che non torna il cane il cane non lo crescevi per per mangiarlo per compagnia come fatto tu con tuo figlio era già morto e l'hai portato da me da chi dovevo portarlo? ed era già morto ne sei sicuro? sì l'ho trovato io in un fosso questo non è uno scambio questa pelle è mia ed è il mio cane hai qualcosa da ridire? almeno ritengo la pelle hai qualcosa da mangiare? no sono tre giorni che non pesco niente ho le gambe sempre vuote ho due bombe le lanci in acqua e ti prendi i pesci le vuoi? vorrei qualcosa da mangiare posso dare un pesce secco? dammi ne due per favore ti prendi la verità è stato tuo figlio ma fare che? il cane l'ha ammazzato tuo figlio? no l'ho trovato io vieni che ti troppo esce ok 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 Grazie.